Da una formazione calabrese ad una compagine laziale dal pareggio casalingo ottenuto al Palasport di Andia contro l'Odissea 2000 di Rossano Calabro, buono alla luce della situazione di emergenza, al complicato impegno in trasferta contro i Capitolini del Fuzz all'Isola, cresce il coefficiente di difficoltà dell'avversario, ma la Salinis e il suo tecnico Domenico Lodi Spoto guardano comunque con ottimismo al match d'alta quota in programma sabato al Palagems di Roma, con inizio previsto alle ore 18. Mi aspetto risposte dei ragazzi, mi aspetto di giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, poi sarà il campo a parlare. In Palio c'è qualcosa di importante, Fuzz all'Isola e Salinis infatti si giocano nello scontro diretto della quarta giornata di ritorno, la terza posizione nel girone B del campionato di Serie A2, l'ultimo gradino del podio al momento è di proprietà della formazione di Margherita di Savoia che però ha un solo punto in più rispetto al quintetto laziale. Il tecnico De Rosa Nero non avrà a disposizione di Staso per squalifica, ma recupera tre pedine fondamentali del proprio scacchiere. Il rientro di Nardacchione per Segovia sicuramente ci darà la possibilità di fare qualche cambio in più durante la partita e non sarà una partita facile, loro hanno un'ottima squadra, stanno facendo una importante risalita in campionato, però prepareremo la partita in un certo modo per cercare di andarcela a giocare anche a Roma. Oltre a di Staso, lo dispoto dovrà rinunciare per il match contro il Fuzz all'Isola anche a Caetano, autore del gol decisivo nella gara d'andata. Espulso un paio di settimane fa nella trasferta di Catanzaro, il brasiliano De Lasarini sarà costretto a restare box per altre due partite. Grazie.